il buon favore lo mettete attento per favore di là non c'è stato un pochino davanti facciamo un totale qua tutti i bambini non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è Tant'io sono in diretta. Ah, sei in diretta? Ah, sei in diretta. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.